Dobbiamo sempre tenere a mente come quel che si è raggiunto, i risultati conseguiti sinora non debbano mai considerarsi scontati e quindi automaticamente eterni. Ciascuna generazione deve saperli rinsaldare e rafforzare. Ce lo ricorda la cronaca di questi mesi, contrassegnata dalla insistenza con la quale altrove si continuano a mettere in discussione i valori fondanti dell'Unione e non soltanto le sue scelte, evocando velitariamente la costruzione di nuove barriere.